La foto del manifesto fatto affiggere dall'amministrazione comunale di Barretta a firma del sindaco Cannito con la data sbagliata della festa della liberazione è diventata virale su web ed è stata riprodotta su numerose testate giornalistiche. La data esatta si rifà al 25 aprile 1945, giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Una festa particolarmente cara ai partigiani alla sinistra, non simpatica se non in visa alla destra. Sul manifesto è invece scritto 25 aprile 1943, provocando migliaia di commenti, alcuni divertiti, altri ironici, altri indignati, altri ancora di dura protesta. Amnesie che capitano quando sei un sindaco socialista ma amministri la città con fratelli d'Italia, scrive Carmine Dolonzo, consigliere di coalizione civica, lista di opposizione. Ma alla sintesi migliore ci sembra la sveglia che questo cittadino cerca di dare all'amministrazione. Il linguaggio non è ortodosso, ma ci sembra che il livello intellettuale espresso rispecchi efficacemente quanto accaduto. Certo, si tratta di un errore di stampa prontamente corretto con un altro manifesto, con la data esatta, fatto a figgere in fretta e furia, ma ancora una volta si manifestano l'approssimazione, la superficialità, la sciatteria che ben altri danni hanno provocati in questi anni rispetto a una, diciamo, semplice figuraccia. È un mero errore tipografico, abbiamo letto, nel tentativo di giustificare la cosa. Una giustificazione che non regge, dato che esiste la dichiarazione, visto si stampi, che il responsabile o il committente appone dopo aver visionato la bozza, dando l'ok all'avvio delle rotative o dell'offset per stampare un giornale o un manifesto. Insomma, comunque la si giri o rivolti, si tratta di un'altra figuraccia che ai barlettani messi alla berlina non è piaciuta affatto. Una piccola cosa, ricordiamo che, come dice il proverbio, il diavolo si nasconde nei dettagli, come ammonire un'amministrazione troppo spesso così grossolana nelle cose che fa. Ci sembra che quella del cittadino urlante valga più di mille discorsi e rappresenti la splendida sintesi giornalistica più appropriata.